salve a tutti amici e bentornati sul canale vi mostro come labbro una fotografia notturna questa è una fotografia paesaggistica notturna che non è una foto riguardante il mondo delle stelle cioè il fatto che ci sia un cielo stellato è quasi una cosa secondaria non vado a fotografare una determinata costellazione non me ne frega niente voglio fare veramente una fotografia paesaggistica di notte questa è una cosa che vado sempre a specificare sono due cose molto differenti fra loro allora questa qui è la fotografia già finita non è niente di che lo so non è niente di particolare io questa parte la potevo ovviamente illuminare anche per pochissimo tempo per dargli un altro aspetto ma va bene è soltanto per mostrarvi come procedo quando vado a fare la post produzione è stata scattata con otto secondi un iso 3002 ho utilizzato la mia macchina fotografica la sony alfa 7 mark 3 un obiettivo qui non da niente perché è un obiettivo manuale è l'ova 15 mm f2 di cui ho già fatto la recensione la trovate sul mio canale youtube e in alto a destra vi metto la scheda per andare direttamente al video ma iniziamo subito a fare la post produzione vado a ripristinare se trovo il pulsante lo sviluppo eccolo qua vedete che la differenza è notevole così esce dalla macchina fotografica se volete vi faccio anche un video come imposto la macchina fotografica quando vado a fare questo genere di uscite perché ha alcuni aspetti un po più pratici che tecnici perché bisogna veramente riuscire a fare le fotografie bene senza rischiare di danneggiare niente e iniziamo subito ok come prima cosa vado a abbassare il contrasto guardate quanti dettagli compaiono soltanto abbassando il contrasto specialmente qui dove è buio il contrasto lo tolgo quasi completamente e poi ho anche abbassare un pochino le luci come se fosse una fotografia di urna ma come vedete un po le luci ci servono qui mi trovo al lago di bolsena quindi ci sono i paesi intorno al lago non è possibile trovare un punto dove c'è poca luce dove c'è poco inquinamento proprio non è possibile quindi bisogna accontentarsi e cercare di trovare un posto un punto dove non ce ne sia troppo anche se è quasi impossibile vado ad abbassare anche la temperatura così le ombre le lascio perdere per il momento e vado ad agire sui bianchi che è molto importante i bianchi allora le stelle e le luci possono bruciare così vedo i neri i neri addirittura devo andare in positivo così bello è perdere la chiarezza le alzo un pochino mai superare i 30 però rimozione foschia anche poco poco la vividezza le alzo un pochino e la saturazione volendo anche ma occhio alla saturazione perché in genere fai danni arrivo alla curva di viraggio cerco di creare sempre una s abbassando un altro pochino i scuri e alzando un pochino i chiari così la differenza è minima però sommando tutte queste differenze minimi otteniamo un bel risultato luminanza allora in saturazione non vado a fare niente volendo posso andare a abbassare il giallo un pochino ma se vi va io in genere non lo tocco vado in luminanza e vado ad alzare i blu guardate le stelle cosa fanno alzando la luminanza del blu le stelle scappano molto fuori insomma sono molto più visibili a volte utilizzando anche l'acqua marina anche se l'effetto è molto più basso quindi non l'utilizzo più di tanto con le luci potrete giocare un pochino con i colori ma occhio anche qui arriviamo alla nitidezza a nitidezza aumento sempre verso una novantina però abbasso il raggio a 0 6 anche i dettagli un pochino licalo in genere sui 15 poi per fare in modo che il rumore non sia così alto perché aumentando la nitidezza noi aumentiamo la nitidezza anche del rumore quindi vado a mascherare quello che ho fatto tenendo pulsante alt spostando la barra verso destra così facendo il bianco tutto quello che il bianco in questo caso il contorno degli oggetti aumenta di nitidezza è proprio quello che vogliamo inizio nel disturbo al momento no vado ad attivare le nuove aberrazioni cromatiche mentre l'attiva correzione profilo non lo vado ad attivare perché la lente non è presente nella lista altrimenti ci proverei vignettatura lascio verde anche perché già c'è abbastanza la vignettatura arrivato alla calibrazione vado un pochino ad abbassare il blu e il rosso lo porto anche un pochino verso sinistra così vado anche ad addrizzare un pochino la fotografia non tengo conto la linea d'acqua perché è un lago quindi ok ora volendo potete anche provare ad alzare le ombre ma poco poco perché come alzate le ombre create rumore e la fotografia è pronta guardiamo prima il dopo utilizzo il pulsante ripristina perfetto è benissimo vi ricordo che sul mio canale ci sono già tanti video riguardanti lightroom iscrivetevi al canale poi per non perdere i prossimi video riguardante questa materia vi ringrazio per la visione a presto e ciao ciao